Cosa succede adesso se il flusso non è più isotermo, ma vogliamo considerare anche gli aspetti relativi allo scambio termico? Allora, la parte termica evidentemente è più veloce da affrontare una volta che abbiamo affrontato il problema, come abbiamo appena fatto, su video dinamico. Infatti, i passi da seguire sono a dimensionalizzazione dell'equazione e l'abbiamo già fatto, analisi degli ordini di grandezza, dell'equazione di conservazione dell'energia addimensionalizzata, lo faremo per un secondo, e vedere qual è la soluzione di queste equazioni. Allora, l'equazione di conservazione dell'energia addimensionalizzata era U star D pi star su D y star, più pi star D pi star su D y star, è uguale 1 su meno per Frand, che moltiplica la derivata seconda di P star su D y star, più la derivata seconda di P star su D y star. Bene. In maniera analoga a quanto abbiamo già fatto per il campo fluido dinamico utilizzando l'analisi degli ordini di grandezza, ovviamente anche qui sappiamo che l'ordine di grandezza di Q star è circa 1, mentre l'ordine di grandezza di, vabbè, certo, l'ordine di grandezza di x star è anche lui, per fare 1, l'ordine di grandezza di y star è uguale a delta D star, cioè questa volta lo spessore dello strato limite termico, non quello fluido dinamico, quindi il pedice T sta ad indicare appunto che stiamo parlando dello spessore dello strato limite termico. Tenete presente che in generale delta e delta T possono essere anche molto diversi tra loro in una data x. Di conseguenza quello che avremo è che l'ordine di grandezza di P star sarà pari in realtà, per osservare l'ordine di grandezza di P star, lasciamo un secondo in sospeso, ci conviene osservare che l'ordine di grandezza di P star è circa unitario, va bene? Di conseguenza l'ordine di grandezza di ognuno di questi termini dell'equazione è circa 1 perché abbiamo 1, 1 e 1, quindi se il primo termine avrà ordine di grandezza unitario anche il secondo termine avrà ordine di grandezza unitario. E allora qui abbiamo ordine di grandezza 1 per P star, ordine di grandezza delta T star per Y star e di conseguenza B star avrà ordine di grandezza, pure lei, delta con T star. Ok? Quindi la conseguenza Y star ha ordine di grandezza delta con T star e quindi anche B star non è proprio immediata, quindi era il caso di spiegarlo un attimino perché la stiamo dando in effetti per scontato. Allora a questo punto che cosa succede? Che anche il secondo membro dovrà avere ordine di grandezza unitario. Ma se andiamo a vedere i termini in parentesi avremo che questo termine qui avrà ordine di grandezza sì circa unitario, ma questo termine qui invece ha come ordine di grandezza 1 su delta T star al quadrato che è molto maggiore di 1. Di conseguenza tutto il termine tra parentesi avrà l'ordine di grandezza di derivata seconda di T star rispetto ad Y star, quindi questo termine qui è trascurabile rispetto all'altro e lo possiamo evidentemente togliere. Per riportare tutto il secondo membro a ordine di grandezza unitario avremo che l'ordine di grandezza, lo spiego qua, di 1 su Reynolds per Pram per la derivata seconda di T star, quindi già che questo è 1 su delta star al quadrato vuol dire che l'ordine di grandezza di 1 su Reynolds per Pram per è circa delta T star al quadrato e ricordando che l'ordine di grandezza di 1 su Reynolds è circa 1 su delta star al quadrato perché l'ordine di grandezza di delta star era 1 su radice di Reynolds. Questo significa che l'ordine di grandezza di grandezza di grandezza di Prand è pari a radice, ah scusatemi, l'ordine di grandezza di Prand non è radice, ma è al quadrato, ok, tutto al quadrato, delta star sul delta T star. Benissimo. Da questa analisi di ordine di grandezza quindi ricaviamo che il numero di Prand ci dà un'informazione relativa, in termini di ordine di grandezza, relativa al rapporto tra gli spessori dello strato limite, ovviamente qui abbiamo spessori adimensionalizzati, ma già che abbiamo il rapporto tra i due e la L rispetto ai quali adimensionalizziamo è la stessa, è il rapporto tra gli spessori anche non adimensionalizzati, giustamente no. Quindi questo vuol dire che se il numero di Prand è uguale a 1, allora avremo che delta T è uguale a 0, che è il caso dei liquidi metallici, allora avremo che delta T deve essere molto maggiore di delta, ok? E allora che cosa significa? Significa che lo spessore dello strato limite flutodinamico diventa trascurabile rispetto allo spessore dello strato limite termico e quindi quando si fa risolvere il problema termico è come se il campo di velocità fosse tutto uniforme a un infinito. Perché questo? Perché se vado a vedere i due strati limite per esempio ad una certa distanza x, allora lo strato limite termico, anzi facciamo prima lo strato limite di velocità, lo strato limite di velocità sarà molto piccolino rispetto a quello termico, quindi si svilupperà in una spessore molto piccola, dopodiché avremo U infinito da tutte le parti. Ora nella stessa posizione lo strato limite termico invece si svilupperà in maniera molto più lenta, quindi magari così. Questo spessorino qua, in corrispondenza del quale si sviluppa lo strato limite di velocità molto piccolo. Quindi quando vado a studiare lo strato limite termico posso ritenere che effettivamente la velocità sia tutta uniforme o infinito. Capite come si intendo? Quando invece il numero di Brandl tende a infinito, che sono evidentemente i flussi di fluidi molto molto viscosi, allora in questo caso è lo strato limite termico che è molto minore dello strato limite fluidodinamico. E allora che cosa succede? che se vado a guardare lo stesso problema che ho visto sopra, lo vado a guardare da qui di, avrò che lo strato limite termico si sviluppa diciamo velocemente, quindi così, va bene? Quindi qui termina lo strato limite termico. Lo strato limite fluidodinamico si sviluppa molto più lentamente, quindi prosegue. E vado a guardare, cioè lo, come dire, lo strato limite termico si sviluppa nella primissima zona di sviluppo di quello fluidodinamico, cioè che posso ritenere che questa variazione di velocità qui sia approssimabile a una retta. le vostre facce mi dicono che non avete capito. Allora, io vi faccio. Allora, facciamo un disegno un pochino più bello, va bene? Quindi, vediamo il caso di prendere il tendente infinito. Cosa succede? X, Y, lo strato limite termico si svilupperà magari in questo modo, quello fluidodinamico molto molto più spesso, va bene? Quindi, se io mi metto qua, avrò che lo strato limite termico si esaurisce qui e poi è fluto di infinito, va bene? Lo strato limite fluidodinamico invece si esaurirà qua. Va bene? Quindi, siccome io sto guardando questa zona qui lì, perché sto guardando il problema termico, questa variazione di velocità in questo primo tratto, la posso approssimare con una retta, perché è un tratto molto piccolo, va bene? bene? Quindi, quando si affronta questo problema qui, cioè prende il tendente infinito, si può approssimare la variazione di velocità dello strato limite termico con una retta, quindi si ipotizza una variazione lineare, con buona approssimazione. Mentre quando prende il tendente a zero, si può ritenere con buona approssimazione che in effetti la posso sia fare o infinito all'interno di tutto lo strato limite termico, va bene? Ma il nostro interesse è quest'altro, Prandall 1 o circa 1. Perché il nostro interesse è qua? Perché tantissimi fluidi di interesse pratico ingegneristico hanno un Prandall circa unità. Per esempio l'aria ha Prandall 0,71, ok? Che è un valore vicino all'unità. Bene? Allora, che cosa succede quando Prandall è proprio 1? Succede che questa equazione qui, dopo l'analisi degli ordini di grandezza che abbiamo appena fatto, diventa Q star, DT star su DT star, più D star DT star su DT star, uguale 1 su meno DT star. Se andate a riguardare le equazioni del campo di velocità nello strato limite, questa equazione è uguale a quest'altra, che era relativa al campo di velocità, è perfettamente uguale, quindi questo significa che se Prandall è uguale a 1, allora U star è uguale a T star e la soluzione in termini di U star sarà uguale alla soluzione in termini di T star. Ok? Su questa osservazione si basa la soluzione del profilo di temperatura nello strato limite per Prandall pari a 1. Ed in particolare che cosa succede? Succede che ad una data X il profilo di U star che non è altro che questa colonnina qui, vedete? La terza. Quindi a una data X avremo che per Z crescente, che sostanzialmente è Y crescente, ok? C'è questa variazione che se vuoi rappresentare su un grafico viene fuori proprio la, come dire, la forma del profilo di velocità nello strato limite. Eccola qua. E questa è la stessa della temperatura dimensionalizzata. Ricordiamo però qual è l'espressione della temperatura di velocità che stiamo utilizzando. T star, cancelliamo qui perché abbiamo riempito la lavagna, T star è uguale a T meno T infinito diviso TS meno T infinito. Quindi varrà 1 in parete dove T uguale TS e varrà 0 nella zona disturbata dove T è T infinito. Questa T star qui evidentemente coincide con la vostra. Bene, e allora se è così vorrà dire che sono in grado anche di andare a calcolare i parametri che mi interessano. Cioè il numero di Nusselt. Cioè, non dimenticate che se studio il problema termico è perché ingegneristicamente voglio andare a determinare qual è lo scambio termico che avviene tra il fluido e la superficie. di Nusselt. Allora, iniziamo con l'osservare che ad una data X il coefficiente di scambio HX per TS meno T infinito è uguale a meno K del T sul dy valutato in y pari a 0. Va bene? Ora, se vado ad adimensionalizzare questa espressione, ottengo che in tutte e pari a meno K che moltiplica. Ricordandovi i passaggi che abbiamo fatto nella dimensionalizzare le varie espressioni delle equazioni, avremo K, scriviamo qua, DT star su DY star per DY star su DY è uno su L, mentre DT su DT star, allora T è uguale a T star TS meno T infinito, ok? di conseguenza, quello che viene fuori è che andando a sostituire il tutto, viene fuori che HX per L su K ma sostanzialmente, il segno meno, è uguale a DT star su DY star. In altri termini vi sto dicendo che il gradiente di temperatura dimensionalizzato calcolato in parete è il numero di Nusselt. Bene, e allora io devo andare a trovare il gradiente di temperatura dimensionalizzato, ma il gradiente di temperatura dimensionalizzato coinciderà con il gradiente di U A dimensionalizzato, vero? Perché T star e U star coincidono. E allora andiamo a vedere che è D U su DX che è quello che ho trovato prima, aveva un'espressione che adesso, onestamente non ricordo, dovrei ricavarla, non l'ho scritta qui, di c'è, vediamo un attimo, no, nemmeno di c'è, vabbè, vediamo un attimo. Allora, questo è D su D, allora vediamo un attimo, voi ce l'avete al volo sul vostro quaderno, così ve la ridettate, D U su D X, no? Tutti i passaggi volete sapere oppure? Quella che avete scritto sul vostro quaderno, così non mi metto a rifare tutti i passaggi. D su D Y? Non ho capito? D su D Y? Quella finale? D su D Y? Sì. No, la radice di 3... No atmosficamente. La radice di 3. La radice di 3... No, 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 no... la radice di reno di x la radice di reno di x tutto fratto x un infinito legata a seconda di x un infinito allora adesso ricordiamoci che però noi stiamo cercando la dU star su dY star che coinciderà con il gradiente dimensionalizzato di temperature però questa è pari a U infinito su L anzi diciamo così vediamolo per bene zU su dY è uguale a U infinito su L dU star su dY star quindi questa quantità qui va moltiplicata per U infinito diviso L questo significa che dU star su dY star è uguale a dT star su dY star che per quanto detto è minuscelfx è pari a U infinito per L che se noi ci mettiamo una determinata x è il nostro x anzi è uguale a x diviso U infinito dU su dY cioè è uguale a x su infinito che moltiplica radice di Reynolds x su x infinito per la derivata seconda di F su dE ora ricordiamoci che tutte queste cose vanno fatte in parete in parete e quella derivata di F su dE vi ricordate che era 0 3 3 2 giusto? bene questo scomparre questo scomparre e allora abbiamo trovato che il nostro minuscelfx è uguale a 0 3 3 2 sapete un bel regno all'omers mica ho fatto troppo per un ripeto forse è meglio allora fin qua mi sembra che sia tutto chiaro cioè il minuscelfx è dato dalla dD su dY va bene? ok e fin qua ci siamo adesso adesso dU su dY è questa espressione qua e va bene ora dU su dY lo devo dimensionalizzare però perché il minuscelfx è la derivata del via dimensionalizzata rispetto alla justa dimensionalizzata se la vado a dimensionalizzare l'espressione è questa quindi questa quantità che effettivamente è quella che sto cercando è pari a dU su dY per L che è sostanzialmente la mia X perché il ragionamento è sempre quello mi metto a una certa distanza X dal bordo d'attacco no? non metto L perché? perché ovviamente questo ragionamento si rifa si ripete per fare X ok? quindi lasciamo X con una variabile quindi è questa derivata per X diviso infinito quindi moltiplicando questo per X infinito si semplifica e ovviamente dF su d va valutato in parete che è lì dove dobbiamo andare a valutare il gradiente ed F su d la derivata seconda in parete vi ricordate che quindi neta uguale 0 vale 0332 da quella tabella che abbiamo visto prima di conseguenza l'espressione finale è che minus F X è 0332 Reynolds a un mezzo cioè radice di Reynolds X x bene ora facciamo un po' di ordine abbiamo gfx era 0664 diviso radice g reno di X mentre minus F è 0332 radice di reno di X questo evidentemente è 2 volte 0332 di conseguenza posso scrivere che questo 0332 è pari a cfx mezzi per radice di reno di X e questa espressione è per voi da qua 0332 di conseguenza avrò che minus F X è uguale cfx mezzi per radice di reno di X ovvero minus F X su reno di X uguale cfx mezzi e nel caso di Brandel unitario questo nusselt X su reno di X coincide con nusselt X su reno di X per Brandel cioè che Brandel vale 1 evidentemente e questo numero qui è il numero di Stanton Stanton X ora cos'è questo numero di Stanton rappresenta se andiamo a esplicitare i termini rappresenta se andiamo ad esplicitare i termini cosa ho scritto una stupidaggia non mi avete detto nemmeno un numero ho scritto nusselt X uguale H delta T no nusselt X uguale H X per L su K quindi se vogliamo utilizzare il posto di L X ok però segnalate queste cose che può capitare magari in un momento di distrazione allora ricordiamoci che A è uguale K su Rho C va bene quindi vedo che state correggendo quindi avete scritto anche voi sul vostro quaderno la stessa stupidaggine allora H X qui abbiamo K Rho U infinito X Mu Ni A K su Rho C quindi Ni su A K su Rho C Rho C lo mettiamo qua bene allora questo qua è Ni quindi iniziamo a semplificare questo lo togliamo con questo questa X la togliamo con questo e questo K lo togliamo con questo va bene quindi il punto può essere scritto alla fine come HX delta T se vogliamo diviso Rho C U infinito delta T bene che cos'è questo numero di stanza qui è l'energia termica scambiata secondo il meccanismo combattivo per unità di tempo di superficie rispetto alla massima che può essere scambiata per unità di tempo di superficie adesso questa relazione qui cioè stanto uguale CFX mezzi si chiama analogia di Reynolds per flusso laminare e perché analogia di Reynolds perché ci dà un legame tra le perdite di carico e lo scambio termico pensate che un legame di questo tipo tra il Nusset e il coefficiente C dal punto di vista pratico sperimentale è molto importante perché significa che io posso andare a misurare per esempio il coefficiente di scambio termico e ricavare il fattore d'attriti o viceversa quindi che cosa faccio misuro quello che mi è più facile misurare ok e l'altro lo ricavo utilizzando l'analogia di Reynolds però questa analogia così come scritta è vera solo per Prandtl uguale 1 nella realtà Polhausen ha osservato che andando a rappresentare il profilo di temperatura nello strato limite in funzione di E evidentemente per valori diversi del numero di Prandtl perché questo è Prandtl unitario vedete che se Prandtl è 08 06 siamo abbastanza vicini ma quando Prandtl cambia molto il profilo è molto differente e ciò che ha suggerito Polhausen è un fattore correttivo che Prandtl è elevato a un terzo con questo fattore correttivo in effetti è stato possibile ottenere un ottimo accordo tra quel profilo tra i vari profili di temperatura dimensionalizzati e l'analogia GR di Reynolds per sostanzialmente per flusso laminare diventa Stanton X per Prandtl alla due terzi uguale CFI mezzi con questo fattore correttivo da dove viene fuori questo Prandtl alla due terzi viene fuori dal fatto che c'è questo fattore correttivo Prandtl a un terzo se vi fate due passaggi moltiplicando per Prandtl a un terzo ok cioè qui è come se avessi moltiplicato per Prandtl a destra e a sinistra moltiplicando per Prandtl a un terzo e a un terzo vi fate passaggi che viene fuori in due terzi che vedete lì ok ultima cosa e abbiamo terminato sulla base di questo fattore correttivo il numero di Nussert locale diventa 0332 Reynolds a un mezzo l'abbiamo visto prima per il fattore correttivo Prandtl a un terzo integrato 0664 Reynolds L a un terzo Prandtl a un mezzo scusatemi Prandtl a un terzo ed è stato osservato da Paulhausen che questa correlazione è molto aderente diciamo ai dati sperimentali per Prandtl compreso dalla 0510 quindi è un mentaglio molto interessante per le applicazioni di interesse ingegneristico capite? quindi quella correlazione che avete probabilmente utilizzato per la straviana viene fuori da qui ora come dire faremo il punto della situazione anche facendo delle esercitazioni in aula ovviamente però adesso l'ora è terminata quindi se avete domande vedete pure altrimenti ci vediamo vi ricordo venerdì non giovedì la lezione è spostata per il seminario che dovete seguire con il professore domande? benissimo allora oggi come inizio esercitazione anche al colatore e noi ci vediamo venerdì buona giornata stessa ora vediamo Grazie a tutti